Il bilancio della primavera sicuramente è positivo, i ragazzi stanno svolgendo un ottimo campionato, sappiamo benissimo che da qui alla fine sarà durissima, ma il nostro obiettivo rimane la salvezza. Ad oggi siamo fuori dalla zona play-out, quindi diciamo che c'è tantissimo entusiasmo, ma anche questi tipi di bilanci sono ottimi, c'è tantissimo entusiasmo, il lavoro di tutti gli staff e dei ragazzi è veramente positivo, si aspetta soltanto la crescita sia delle ragazze che delle ragazze. È veramente importante, negli ultimi anni i ragazzi che sono passati dalla primavera sono stati tantissimi, poi quelli che si sono avvicinati alla prima squadra, come dicevi tu una sinergia molto importante, in prima squadra c'è molta attenzione partendo dal direttore Foschi, passando poi per lo staff tecnico, quindi i nostri ragazzi sanno benissimo che c'è grande attenzione. Mi auguro per il 2019 di continuare a lavorare cercando di migliorarci e di migliorarsi tutti i giorni, indistintamente, applicandoci attraverso sacrificio, umiltà, professionalità e grande passione.